Torna dal 27 al 30 settembre all'ex Real Pulverificio Borbonico di Pompei con ingresso gratuito BITUS, la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori Dalla Classe. Una quattro giorni di incontri, workshop, spettacoli con focus sui beni culturali ed eventi dedicati ai ragazzi che combinerà le due direttrici principali dell'organizzazione. Da un lato infatti troviamo la parte educational con conferenze, dibattiti, interviste ai protagonisti, analisi e ricerche sui temi tra i quali il linguaggio, la mediazione culturale e il design thinking. Dall'altro quell'experience, collaboratori all'aria aperta, parco giochi al coperto, masterclass e rievocazioni, attività particolarmente indicate per famiglie e ragazzi di tutte le età. Alla presentazione sono intervenuti Domenico Maria Corrado, editore e direttore generale di BITUS, Felice Casucci, assessore al turismo della regione Campania e Gabriel Zuchtrigel, direttore del Parco archeologico di Pompei. Un appuntamento unico, esclusivo, che rappresenti un momento di incontro, confronto e anche scontro delle tematiche relative ai viaggi turistici, alle gite scolastiche, ai viaggi di istruzione e anche alle nuove opportunità. Siamo qui per raccontare, non a caso in uno dei luoghi più importanti al mondo del turismo culturale, nell'accezione storica, archeologica del termine, siamo qui per raccontare l'importanza della regione Campania, l'importanza di questo connubio, di questa saldatura con i giovani, in una prospettiva di turismo culturale, radicato, profondo, scientifico. È un compito centrale nostro di offrire qualcosa per tutti, tra cui anche i giovani, le scuole, la formazione, l'educazione e qui Pompei può essere fondamentale. A concludere la presentazione di Bitus, il videomessaggio di Massimiliano Gallo, testimonial dell'evento. Quattro giorni di festa dedicati agli operatori turistici e agli studenti di ogni ordine e grado, con incontri, dibattiti, presentazioni di libri, concerti, spettacoli, attività sportive ed esperienze di viaggio virtuali e naturalmente workshop di incontro tra domanda e offerta per incrementare il proprio business. Grazie a tutti. Grazie a tutti.